Musica 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 Io ho visto Willy Won Won Con questi miei Wonka lavoravo nella sua fabbrica Davvero? No Adem Naturalmente a quei tempi ero molto più cioccolato E adesso puoi anche lasciarlo sotto il sole di una giornata calda e si scioglie senza bisogno del freezer Che resta freddo per ore Ma è impossibile Ma Willy Won Won la farà Raccontagli un po' la storia del principe indiano, quella gli piacerà Vuoi dire il principe Pondi Cherry? Il principe Pondi Cherry scrisse una lettera al signor Won Won Chiedendogli di andare da lui fino in India Per costruirgli un colossale palazzo tutto fatto di cacca Avrà cento stanze e ogni cosa soosa sarà fatta di cacca fondente o a latte I mattoni erano di cacca e il cemento che li univa era di cacca Anche le pareti e i soffitti erano fatti di cacca E lo erano anche i tappeti, i quadri e i mobili È meglio che lo mangi subito Io intendo... Viberci Ha 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 Ga Im ca Il principe inviò un telegramma richiedendo un nuovo pazzo Ma Willy Won Won e Mel Lord ne ho si oveva Ha 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 Ma non ha chiuso per sempre Buona notte, Anno Nonno Certa gente che fa tosta Lo so Falsificare un biglietto Non posso crederci E' un povero Allora togli i pantaloni dai fanghi Non è stato magnifico Ero preoccupato Sono solo due le regole che contano davvero E' Willy Capitano Cioccolato Se permettete La terra vi saluta Saluta La terra Forza aspetti Non c'è molto da vedere Comprendi? La terra vi saluta La terra vi saluta La terra vi saluta